Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di una fotocamera a cui io sono particolarmente affezionato. Ho il piacere di presentarvi la Canon EOS 6D. Come mai parliamo di una camera così vecchia oggi? Perché è una camera molto vecchia se ci pensate. È una camera che è uscita nel 2012 ed è stata in produzione fino al 2017. È una camera che attualmente si trova fuori produzione, si trova ancora online perché si trova usata, si trova ricondizionata. Come mai ve ne parlo oggi? Ormai siamo nell'epoca delle mirrorless, abbiamo a che fare con fotocamere e videocamere dalle prestazioni decisamente superiori. Eppure se andiamo a vedere il sensore, se andiamo a vedere il file d'uscita, questa camera può riservare delle belle sorprese. Cominciamo con qualche specifica tecnica. Questa è una fotocamera con un sensore da 20 megapixel, ha una raffica da 4,5 scatti al secondo, una sensibilità ISO che va da ISO 100 con un'espansione fino a ISO 1002000. Ovviamente non che serva mai nella vita utilizzare un'estensione ISO come quella la maggior parte delle volte, voglio sperare, la utilizzeremo a ISO bassi perché comunque anche se è una camera full frame è stata presentata come la entry level delle full frame e quindi non ha la stessa resistenza al rumore che possiamo trovare per esempio su una 5D. Va anche detto che al momento della sua uscita questa camera ha ricevuto tantissimo audio, non dal sottoscritto ovviamente. Diciamo che in rete ci sia un po' scatenati nel definirla una camera dalle prestazioni un pochettino sovrastimate per tutta una serie di motivi perché comunque i punti di messa a fuoco non sono tanti, sono 11 punti di messa a fuoco perché comunque ha solamente, si fa per dire, solamente un card slot con la memoria SD perché ha solamente 20 megapixel, perché ha solamente 4.5 scatti al secondo, tutta una serie di cose che a me francamente non dispiacciono per niente però. Andiamo a vedere nello specifico. Come dicevamo, corpo macchina full frame, quindi stiamo parlando di una camera che per quanto sia una entry level porta a casa delle belle immagini. In dubbio vantaggio possiamo montare tutte le lenti della serie L e quindi abbiamo un rapporto 1 a 1, quindi nel momento in cui io vado a montare per esempio un 16-35 mm avrò effettivamente un angolo di campo che sarà equivalente a 16 mm o a 35 mm. Il vantaggio di utilizzare un corpo macchina full frame non è il fatto di avere una full frame in sé, cioè non è tanto la qualità del sensore perché quello ormai anche le APS-C si sono avvicinate così tanto, c'è una convergenza tale, non c'è più questa differenza di qualità, neanche per le prestazioni ad altiso. Secondo me ormai siamo molto molto vicini. Il vantaggio vero di utilizzare una full frame è che io posso utilizzare le lenti giuste, quindi le lenti che sono state pensate per i professionisti sono state pensate meglio rispetto alle lenti pensate per gli amatori. Le lenti per gli amatori magari sono di più, c'è una gamma più vasta, però le lenti per i professionisti sono pensate bene. Quindi nel momento in cui io prendo un 16-35mm ed è giusto, ha il rapporto giusto su una full frame e poi mi prendo un 24-70mm e di nuovo ha il rapporto giusto e poi mi prendo un 70-200mm, così con tre obiettivi ho l'intera gamma, sono le lenti migliori che io posso avere e hanno il rapporto giusto rispetto al sensore. È questo secondo me il grande vantaggio di avere una fotocamera full frame. Per il resto si può tranquillamente andare sulla PSC e qual è lo svantaggio della PSC però? Il fatto che se io mi prendo le lenti equivalenti, quindi per avere un 16-35mm e mi prendo un 10-22mm, qual è lo svantaggio? Che il 10-22mm è una lente carina ma è infinitamente meno pregiata come vetro, come qualità, come costruzione rispetto al 16-35mm. Quindi è questo secondo me il vantaggio di avere una full frame. Questa camera essendo full frame ci permette di avere tutte le lenti Canon, stiamo parlando di un signor pezzo di vetro e quindi stiamo parlando di una fotocamera che semplicemente per la caratteristica di poter montare queste lenti con il giusto rapporto tra sensore e lente ci permette di portare a casa delle ottime fotografie. Per quanto riguarda il card slot, l'ho detto tante volte, io non sono un amante della compact flash quindi il fatto che qui ci sia una sola card a me va benissimo, mi piace, oltretutto c'è una sola card anche su molte mirrorless che sono uscite, per esempio sulla mia Canon EOS R c'è un solo card slot e guarda caso è uguale, quindi tutti i detrattori della 6D dovrebbero adesso guardare la Canon EOS R e dire la stessa cosa. In realtà secondo me si è capito che l'evoluzione tecnologica ci ha portato a un punto dove la compact flash non è più così necessaria perché le SD ormai performano, quindi va bene così, andava bene così anche all'epoca secondo me, va bene così anche adesso. Per quanto riguarda il sensore abbiamo 20 megapixel, è vero non sono tantissimi eh per esempio la Canon EOS 80D ne ha di più, ne ha 24, quindi stiamo parlando di una PSC che ha più megapixel rispetto a questa che è una full frame. Secondo me questa camera è ancora estremamente valida perché comunque ha un numero di megapixel che è molto vicino a quello della Canon EOS 5D Mark II quindi siamo lì e se la Canon 5D Mark II è ancora attuale, è ancora una camera ricercata tutto sommato ricercata nel senso che c'è gente che la cerca, c'è gente che la vuole, c'è gente che la usa compreso il sottoscritto io la uso e devo dire che le reazioni che ho visto al mio video sulla Canon EOS 5D Mark II mi hanno convinto del fatto che non sono l'unico che la sta ancora cercando perché comunque rimane un'ottima camera. Ebbene questa camera ha un sensore che è molto simile per quanto riguarda i megapixel, siamo lì come dimensione. Ovviamente il file d'uscita non è lo stesso il file d'uscita è meglio sulla file D, comunque è un corpo macchina dichiaratamente professionale mentre questo è dichiaratamente entry level quindi il file d'uscita sarà un po' migliore sulla file D però c'è da dire anche una cosa, messa a fuoco. Sì certo è vero ha solo 11 punti di messa a fuoco però questa camera ha un ottimo sistema di messa a fuoco. Anche qui è stata demolita sul sistema di messa a fuoco perché non ha ereditato i punti di messa a fuoco della 5D Mark III se ricordo bene che sono usciti quasi in concomitanza. Allora è vero non ha ereditato quel sistema di messa a fuoco non ha ereditato quei punti di messa a fuoco però questa camera ha un sistema che focheggia a meno 2 EV quindi è un sistema di messa a fuoco che funziona anche con molta poca luce ovviamente è un sistema di messa a fuoco che funziona, è molto meglio del sistema di messa a fuoco della 5D Mark II ovviamente non compete con la messa a fuoco della 5D Mark IV ovviamente non compete perché se uno spende il triplo della cifra per comprare la 5D Mark IV avrà anche un sistema di messa a fuoco migliore ovviamente però questo sistema di messa a fuoco non è niente male e soprattutto per l'uso che ne faccio io, io come qualcuno già saprà se avete seguito i video precedenti utilizzo sempre e solo il punto di messa a fuoco centrale perché preferisco mettere a fuoco e ricomporre piuttosto che affidarmi a una griglia di punti di messa a fuoco che mettono a fuoco dove vogliono loro di fatto se io metto a fuoco una scena usando i punti di messa a fuoco mi mettono al di là dei sistemi ultramoderni che ti beccano l'occhio quelli va bene, sono fantastici però normalmente lavorando con una fotocamera normale da esseri umani se tu ti affidi alla griglia la griglia mette a fuoco la cosa più vicina quindi c'è quel problema che io invece voglio mettere a fuoco dove voglio io per cui metto a fuoco dove voglio io e poi ricompongo a quel punto che cosa succede però? che non mi interessa più quanti punti di messa a fuoco ci sono perché tanto uso sempre lo stesso, quello centrale che sono sicuro che è a croce ovviamente se stiamo utilizzando solamente un punto di messa a fuoco non ci interessa più quanti sono i punti di messa a fuoco totali perché comunque ce la stiamo cavando benissimo con uno solo ora viste queste caratteristiche fotocamera full frame sensibilità ISO più che decente messa a fuoco anche al buio ragazzi questa è una fotocamera eccezionale se facciamo per esempio cerimonie questa è un'ottima fotocamera per fare matrimoni è un'ottima fotocamera per fare ritratto è un'ottima fotocamera per fare anche paesaggio perché comunque se la cava benissimo è un'ottima fotocamera per tutti i generi fotografici che non richiedono necessariamente una velocità di messa a fuoco ovviamente nel momento in cui dobbiamo fare delle fotografie a una manifestazione sportiva non andrei su una macchina come questa perché in quel caso potremmo essere un po' in difficoltà per quanto riguarda i tempi di messa a fuoco e la precisione di messa a fuoco questo è vero in quel caso andrei magari su una 7D su qualcosa di un pochino più veloce o su una 80D su qualcosa di più veloce in termini di messa a fuoco ci sono fotocamere che sono fatte apposta per questo in particolare sto aspettando con ansia la Canon EOS R7 che è dichiaratamente pensata per fare sport per fare wildlife per fotografare uccelli al volo quella è una fotocamera con una messa a fuoco veloce e fatta apposta per beccare degli oggetti che si muovono rapidamente per mettere a fuoco più veloce di quello che siamo in grado di fare normalmente quindi quella è la fotocamera che consiglierei se dovessimo andare a fotografare dei soggetti a un rapido movimento questa non è adatta a fotografare dei soggetti che si muovono rapidamente non è la sua cosa ce la si può fare lo stesso non è brutto come sistema di messa a fuoco ma non è pensato per quello non è rapidissimo è rapido ma non rapidissimo è meno rapido di una 80D quindi se dobbiamo fare sport se dobbiamo fare cose in movimento non è la camera che andiamo a scegliere però se dobbiamo fare una cosa semistatica sto pensando a un matrimonio una cerimonia ho fatto diversi matrimoni e battesimi con questa fotocamera e non ho mai avuto problemi perché comunque gli sposi si stanno lì sull'altare fanno le loro cose si muovono un pochino però intendiamoci lo sposo e la sposa non è che corrono in giro per la navata quindi con questa fotocamera che mette fuoco egregiamente al buio le cerimonie le possiamo fare alla stragrandissima possiamo fare tranquillamente anche paesaggio possiamo fare foto di architettura io questa la uso molto spesso per fare foto di architettura real estate foto di interni foto industriale per quanto riguarda la foto industriale è vero che ogni tanto ci sono degli oggetti in movimento macchinari bracci robotici però vi dico ce la si cava tranquillamente perché per quanto riguarda la fotografia industriale tutti i movimenti che ci possono essere sono ampiamente replicabili perché all'interno di una catena di produzione viene tutto ripetuto per cui io ho tutto il tempo del mondo per mettermi lì mettere a fuoco la mia azione e la manco la prima volta la seconda volta la becco quindi non è un grosso problema ovviamente se stiamo riprendendo una partita di basket e dobbiamo beccare l'azione questa non è la camera giusta perché lì magari ci sbaglia lo scatto decisivo sulla messa a fuoco ma qualunque altra cosa stiamo facendo me la sentirei di dire che con questa camera andiamo via lisci come vi accennavo il file d'uscita non è quello di una 5D quindi qui abbiamo a che fare con un file d'uscita che sì è bello sì abbiamo un bel file CR2 quindi abbiamo un file RAW che possiamo comunque lavorare lo lavoriamo serenamente non ha tutta la gamma di informazioni di un file d'uscita di una 5D quindi noi possiamo maltrattarlo possiamo tirare i cursori anche in maniera abbastanza estrema però il risultato a parità di modifiche che abbiamo fatto non sarà lo stesso rispetto che se avessimo utilizzato il file d'uscita di una 5D il file d'uscita di una fotocamera dichiaratamente professionale regge meglio i maltrattamenti e soprattutto si vedono meglio i maltrattamenti nel momento in cui io tiro un fader all'estremo sul file d'uscita della 6D è molto possibile che l'effetto sia inferiore rispetto al file d'uscita di una fotocamera professionale cioè escono di meno le modifiche si riescono a tirare fuori meno colori si riesce a tirare fuori meno gamma dinamica non tanto di meno è un pochino di meno io questa cosa la noto perché avendole entrambe vedo la differenza quando lavoro con una piuttosto che quando lavoro con l'altra quando si lavora con una 5D il file d'uscita è più prestante contiene più informazioni è anche più pesante ovviamente diamo un punto alla 5D per il fatto che il file d'uscita è migliore ma diamo un punto anche alla 6D perché comunque il file d'uscita è buono e pesa di meno questa è una cosa da non sottovalutare spesso si può scegliere di scattare con una fotocamera come questa rispetto che con una 5D anche per il peso del file qui abbiamo un file che non peserà tantissimo quindi questa può essere una seconda camera se abbiamo già un corpo full frame professionale può essere una camera che utilizziamo in certe circostanze in cui non vogliamo appesantirci di troppe foto può esserci il caso per esempio in cui sappiamo che dobbiamo realizzare tanti scatti che può essere per uno still life per un e-commerce in quel caso non ci portiamo la 5D sarebbe inutile dal punto di vista della messa a fuoco perché per fare still life sarebbe sprecata e poi avremo dei file pesantissimi di cui non abbiamo bisogno perché file per un e-commerce finiranno grandi così sul sito web e forse grandi così su instagram è molto meglio utilizzare una camera come questa o addirittura io vi direi una PSC per un e-commerce che non c'è assolutamente bisogno di una full frame per un e-commerce però se vogliamo stare sul corpo full frame questa è un'ottima alternativa a una 5D per fare cose di questo tipo dove il nostro obiettivo è fondamentalmente non appesantirci non appesantire la memory card non appesantire la nostra macchina quando torniamo a casa non appesantire il computer in fase di editing quindi preferiamo avere dei file un pochino più leggeri quindi rispetto a una 5D Mark IV magari che ci sbatte giù dei file pesano una tonnellata andiamo su una camera come questa lavoriamo molto più snelli parlando un attimo delle caratteristiche del corpo macchina questo è un corpo macchina con delle buone caratteristiche secondo me perché ha i soliti bottoni che servono per gestire messa a fuoco blocco della messa a fuoco eccetera abbiamo le due ghiere quindi ghiera per i tempi e ghiera per i diaframmi come sui corpi macchina professionali abbiamo tasto AF tasto drive tasto ISO tasto metering e pulsantino per illuminare il display quindi è la stessa impostazione che avremmo su una 5D quindi è molto molto comodo dall'altra parte abbiamo la ghiera per selezionare la modalità di lavoro devo dire che su questo modello oltretutto è stata introdotta una miglioria che poi è stata mantenuta a cascata sulla maggior parte dei modelli ovvero il bottone per bloccare la ghiera in questo modo se io voglio modificare la modalità dovrò premere il bottone e girare altrimenti non gira questo devo dire che è utile perché ogni tanto capita che riponendola nella borsa si giri da sola questa ghiera e quindi dopo ci si ritrova con una modalità che non è quella che siamo soliti utilizzare con questo bottone questo non succede più altra cosa per cui questa camera è stata massacrata sì manca il joystick posso dire che non me ne frega niente se manca il joystick su una camera come questa questa camera è giusto che non abbia il joystick e vi dico perché perché ha solamente 11 punti di messa a fuoco con questo tasto a croce ci si muove benissimo con 11 punti di messa a fuoco tanto la maggior parte delle volte utilizzeremo sempre gli stessi tre punti di messa a fuoco che sono quello centrale e i due a lato sono quelli che si usano di più in assoluto quindi tic 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 sono due tasti non serve il joystick detto questo a me piace quando c'è il joystick sulla 7D c'è lo uso sulla 5D c'è lo uso per carità ci sono tante camere che ce l'hanno ci sono tante camere che non ce l'hanno devo dire che quando manca io non mi scandalizzo perché se manca il joystick su una fotocamera con 9 miliardi di punti di messa a fuoco posso capire il disagio su una camera che ne ha 9 poi al di là del fatto che io ne uso sempre uno solo quindi a me proprio non manca il joystick non mi manca per niente veniamo un po' al lato di questa fotocamera qui noi abbiamo cosa che io apprezzo moltissimo qui abbiamo l'attacco per l'intervallometro quello professionale quindi questa è una cosa che io ormai tengo in grandissima considerazione le fotocamere APS-C c'è un motivo per cui le sto un po' svalutando perché gli mancano delle feature che le rendono un pochino più professionali qui invece ce le abbiamo qui sul lato della fotocamera abbiamo l'HDMI abbiamo l'ingresso microfonico ovviamente per chi dovesse utilizzare microfoni esterni vi lascio in card il mio video su come si fa a registrare l'audio in maniera professionale vedrete che il microfono della fotocamera non si usa mai quindi usate microfoni esterni e quindi cercate una fotocamera che abbia l'ingresso per i microfoni esterni altra cosa che questa camera ha in dotazione è l'ingresso per l'intervallometro professionale questa è una cosa per cui ho molto svalutato le fotocamere APS-C nel senso che ne ho le uso ancora però le fotocamere APS-C entry level sono provviste solamente dell'attacco per lo shutter release quindi hanno un telecomando dedicato che permette solo di fare lo scatto non permette funzioni aggiuntive invece su questa fotocamera con l'intervallometro professionale di Canon io posso fare tante cose posso fare timelapse posso fare esposizioni in modalità bulb con un tempo superiore ai 30 secondi posso fare più scatti in sequenza posso fare tutta una serie di cose programmabili da questo intervallometro che sulla 700D per esempio non posso fare la 700D è un tipo di camera che io uso per esempio per fare still life è una cosa che a me va benissimo così perché tanto per fare still life l'intervallometro non si usa diciamo che questa è una feature che tengo in altissima considerazione quando un corpo macchina ha l'attacco per quell'intervallometro è per me un po' il segnale che è una fotocamera pensata per un utilizzo un pochino più avanzato rispetto al compleanno del nipotino una fotocamera che non ha quell'attacco va bene per il compleanno del nipotino ma non è stata pensata per i professionisti per cui questa fotocamera ce l'ha quell'attacco e quindi a me fa pensare che abbia delle potenzialità e infatti ce le ha infatti io vi dico che questa camera l'ho comprata credo proprio nel 2012 quando è uscita infatti l'ho pagata alla bellezza di 2200 euro adesso costa una cifra assolutamente irrisoria adesso credo che la si trovi tra i 400 e i 600 euro però la camera è la stessa e io vi dico che la sto ancora usando la uso tuttora la uso spesso è la camera che uso di più in assoluto perché la uso più spesso della 5D la 5D la uso in determinati contesti quando servono tanti megapixel perché la 5D Mark IV ha 30 megapixel la uso quando non devo sbagliare il fuoco quindi magari sto facendo un evento importantissimo con degli ospiti sensazionali ricchi premi e cotillon cioè se sto facendo una cosa dove assolutamente non mi posso permettere errori allora prendo la 5D se sto facendo una cosa dove sono tranquillo ho tutto il tempo non servono tanti megapixel tanto le foto vanno per il sito web o per Instagram questa camera è l'ideale molte volte neanche questa molte volte tranquillamente una PSC come magari la 80D o se devo fare uno still life che è molto shallow dove posso stare bello tranquillo non ho problemi di messa a fuoco non ho problemi di tempo non ho problemi di niente perché siamo in luce controllata anche la 700D va benissimo ecco diciamo che questa fotocamera si presta a fare molto nel senso che è sì pensata per essere una entry level nel mondo full frame però come full frame le hanno dato delle caratteristiche di un certo tipo per cui le hanno dato una bella qualità d'immagine le hanno dato la compatibilità con tutte le lenti professionali ce la caviamo benissimo se vogliamo fare lunghe esposizioni ce la caviamo abbastanza bene anche se alziamo gli ISO ovviamente senza andare a 102.000 ISO ma se stiamo su ISO 3002 è una camera che lavora comunque abbastanza bene è una camera con corpo macchina che ha tutti i bottoni che ci servono è vero che non ha la banda su questo lato con tutti i pulsanti come sulla 5D qui sono stati collassati da questa parte devo dire che è un setup che a me non dispiace perché sono state magari eliminate alcune cose che sulla 5D erano un po' ridondanti e sono rimasti da questa parte solo menu e info tutto il resto è da questa parte e questo significa che io con una mano sola posso compiere la maggior parte delle operazioni se devo fare delle operazioni rapide io faccio tutto con una mano sola se devo aprire il menu smanettare allora uso due mani ma la maggior parte delle cose per cui vedere foto eliminare foto ingrandire foto zoomare eccetera posso fare tutto con una mano sola per me è estremamente comodo inoltre va anche detto che questo corpo macchina è più piccolo rispetto alla 5D quindi è un corpo macchina che sta bene in mano comunque il grip va bene perché non è piccolo come una mirrorless è un po' più piccola della 5D però ancora ci siamo perché comunque riesco a tenerla anche col mignolo non ho il mignolo che mi scivola sotto come su una mirrorless è un pelino più grande questo per qualcuno sarà un contro per me è un pro perché a me piacciono le camere grosse io mi trovo scomodo a tenere in mano delle camerine con le mirrorless a me sembra di avere in mano una compatta è piccola per me quindi lo so che le prestazioni sono ottime infatti le uso però se devo scattare per il mio piacere io voglio una camera grossa in mano voglio una camera che mi riempia bene la mano in questo modo la sento bene nel momento in cui sto scattando e mi godo di più lo scatto che sto facendo ovviamente vi posso dire che se fossi un amatore terrei in ampissima considerazione questo fatto essendo un professionista infatti ho comprato anche delle fotocamere mirrorless perché comunque hanno delle caratteristiche che me le rendono appetibili e mi servono per molte cose ma mi servono per fare video non per fare foto per fare foto io continuo a utilizzare delle fotocamere reflex e continuerò a utilizzarle fino a quando non muoiono non le andrò a sostituire questa è una fotocamera che io mi tengo finché dura per tutta la durata della sua vita io mi tengo questa camera e la uso perché la uso per fare foto e quindi va benissimo così non mi serve una mirrorless per fare foto di interni non mi serve una mirrorless neanche per fare foto in cerimonia vado assolutamente tranquillo con questa e anzi mi piace di più scattare con questa la mirrorless a me piace per fare video mentre questa mi piace per fare foto per fare ottime foto aggiungerei perché comunque è una fotocamera che se veniamo dal mondo APS-C è molto meglio rispetto a quello che avevamo prima ovviamente se veniamo da una full frame professionale è un'ottima seconda camera non andrà a competere con la camera professionale che abbiamo già ma sarà un'ottima seconda camera vale la pena acquistarne una nel 2022 ormai avanzato stiamo già quasi parlando di 2023 il punto qual è secondo me vale la pena averne una semplicemente per il prezzo perché una fotocamera così per quello che ci dà per il prezzo a cui la potete trovare è una fotocamera che gli vale tutti quei soldi perché comunque è una fotocamera con cui potete lavorare è una fotocamera che vi permette di lavorare come fotografi ovviamente abbinata alle ottiche giuste vi permette di lavorare e di lavorare bene state entrando nel mondo full frame senza lasciare giù una gamba e un polmone state entrando nel mondo full frame senza spendere i 2000-2500 euro di una Canon di serie R o di una 5D state entrando nel mondo full frame con una fotocamera che costa meno delle lenti che andrete a prendere una fotocamera che sì è vero va bene solo per fare foto perché il comparto video non è all'altezza dei tempi quello assolutamente no però questa è una fotocamera è dichiaratamente pensata per fare foto non è pensata per fare video fa video in 1080 quindi si possono fare video in full HD e vi potrei anche dire che se sapete quello che state facendo riuscite a cavare quello che volete da questa camera non ha la messa a fuoco automatica continua sul video questa sicuramente è una pecca perché ormai le mirrorless su questo hanno stravinto infatti per fare video io uso le mirrorless questa è una camera che va bene solo per fare foto però mi verrebbe anche da dire che se siamo in emergenza e se dobbiamo fare video se sapete quello che state facendo riuscite a fare un buon video in 1080 con questa camera ci si riesce assolutamente se sapete quello che state facendo la impostate nel modo giusto pochi comandi il video in 1080 viene fuori da questa camera quindi anche in emergenza ce la si cava l'ingresso microfonico ce l'ha quindi è una camera con cui si può lavorare anche in ambito video non è quella che vi consiglio in ambito video così come non è quella che vi consiglio se fate sport o se fate natura ovviamente a me piace veramente tanto questa camera la uso spesso è una delle camere che porto con me più spesso di tutte perché questa è pressoché sempre nel mio zaino io mi porto sempre dietro questa è la 5D o questa è la 80D o questa è la 700D ma questa c'è sempre questa qui me la porto sempre perché è una camera versatile si adatta a più contesti ha una messa a fuoco che funziona bene anche in mancanza di luce quindi la uso spesso e volentieri per fare interni per fare fotografia industriale se la cava benissimo la uso per fare paesaggio perché comunque è una full frame e quindi mi permette di usare il grandangolo a pieno e quindi funziona benissimo la uso per fare ritratto perché comunque ha una bella resa e comunque i colori Canon funziona bene e tenete conto che quando io vi dico che il file d'uscita non è bello quanto quello di una 5D quello che intendo dire è che se in emergenza abbiamo una foto da recuperare di brutto sulla 5D riusciamo a farlo meglio però non è questo il modo di lavorare secondo me il modo di lavorare è la foto deve essere fatta bene in maniera tale da non doverla recuperare e se la foto è fatta bene e quindi non devo essere estremo sui miei slider perché la luce era già giusta in camera non ho bisogno di fare quelle modifiche estreme a questo punto abbiamo delle foto eccezionali da questa fotocamera che cosa intendo per modifiche estreme se noi abbiamo sbagliato se la foto è sbagliata se eravamo di corsa se abbiamo fatto una foto con l'esposizione sbagliata lì dobbiamo fare delle modifiche estreme per recuperare le informazioni per recuperare i bianchi bruciati o per tirare fuori le ombre dove abbiamo una perdita di informazioni questo comporta che dobbiamo maltrattare il nostro file perché il file è stato scattato con un'esposizione e l'esposizione dobbiamo tirarla da un'altra parte è evidente che se abbiamo sbagliato noi questa fotocamera ha un file d'uscita che fa più fatica a darci il risultato che vogliamo rispetto a una 5D va anche detto che se noi diciamo alla camera quello che deve fare non dovremo fare quella fatica per recuperare il file e quindi avremo un file che sarà in tutto e per tutto equiparabile a un file d'uscita di una 5D perché non dovremo maltrattarlo al punto in cui ci accorgiamo che gli manca qualche informazione avremo un file che ci dà esattamente quello che ci serve e questo dipende da noi dipende dall'uso che ne facciamo in definitiva vi dico questa è una fotocamera eccezionale per chi vuole entrare nel mondo full frame senza lasciare giù un polmone in alternativa potete pensare di prendere la Canon EOS RP che più o meno è omologa come fascia solo che costa molto di più perché è una mirrorless inoltre abbiamo anche il problema di doverci comprare le ottiche RF che costano molto di più rispetto alle ottiche vecchie che potreste anche già avere c'è anche da comprare l'anello adattatore ora è vero che se avete delle ottiche EF come il mio meraviglioso 16-35 sono innamorato di questa lente se avete delle ottiche EF e prendete un corpo RP o un corpo R è pur sempre vero che le potete usare tutte con l'anello adattatore è una soluzione che a me personalmente non piace per niente per due ottime ragioni la prima è l'anello adattatore sembra una cavolata ma una lente con una determinata lunghezza applicata su quel filtro adattatore diventa molto più lunga per cui io anche se ho un grand'angolo mi ritrovo ad andare in giro con una sleppa così che sembra un teleobiettivo è molto fastidioso inoltre stiamo parlando di fotocamere leggere e a questo punto le mirrorless sono molto leggere per cui abbiamo la lente che pesa costantemente in avanti perché corpo macchina piccolo e leggero lente pesantissima che tende in avanti questo è il primo motivo il secondo motivo è che per quanto mi riguarda andare a prendere una fotocamera mirrorless e rinunciare a tutte le funzionalità offerte dal corpo macchina per incompatibilità con la lente è veramente un peccato le lenti EF sono compatibili con le full frame però molti automatismi soprattutto sulla messa a fuoco soprattutto sul video non sono uguali se io sto utilizzando una lente RF godo a pieno dei benefici della mirrorless se invece vado a mettergli su una lente vecchia che non ha l'STM che non ha la messa a fuoco automatica che non ha la messa a fuoco costante sul video vado a perdere tantissimo cioè è come a quel punto è come se stessi usando una fotocamera reflex perché la lente vecchia mi riporta indietro anche il corpo mirrorless quindi è veramente un peccato secondo me dipende anche da cosa dobbiamo fare perché se dovete fare video una mirrorless è sicuramente meglio se dovete fare prevalentemente foto con questo corpo macchina state risparmiando una valanga di soldi c'è anche da dire una cosa questa fotocamera è stata tanto odiata al momento della sua uscita anche la Canon EOS RP è stata molto disprezzata al momento del lancio e ancora adesso non è che goda proprio di buona fama perché? perché fondamentalmente Canon ha deciso di non impiantare in quella fotocamera molte caratteristiche che ci sono invece sui modelli più progrediti se ci pensiamo è la cosa più ovvia di questo mondo io non posso pensare di dare una fotocamera che costa 6.000 euro e poi di mettere le stesse identiche cose in una fotocamera che costa 1.000 euro sarei stupido quindi è evidente che se compro quella da 1.000 euro non avrà le stesse cose di quella da 6.000 la Canon EOS RP ha diverse cose che sottoperformano quindi ha delle caratteristiche sul video che non convincono non soddisfano e ha delle caratteristiche anche sul sensore che non convincono non soddisfano proprio come la 6D quando uscì ai tempi perché vi parlo della RP? perché è un'ottima alternativa a questa fotocamera se volete qualcosa di analogo ma che faccia anche video ovviamente ricordatevi sempre che se state pensando di spendere poco state anche prendendo qualcosa che vale di meno rispetto a un qualcosa che costa di più quindi se vi prendete la RP poi non vi aspettate di avere una qualità video stratosferica non vi aspettate di avere la possibilità di gestire gli fps come volete perché se ricordo bene mancano i 24 fps ci sono solo i 30 quindi è una fotocamera che veramente sottoperforma un pochino per quello che costa per quello che è il prezzo se dovete fare solamente foto secondo me è molto meglio la 6D rispetto alla Canon RP che rimane comunque una buona camera però è veramente veramente entry level nel mondo mirrorless per esempio io ho preferito andare sulla Canon EOS R che quanto meno mi consente di girare in 4K 24 frame al secondo in formato log questa è la base per fare certe cose sulla RP queste cose non ci sono quindi è una fotocamera che è molto buona per un amatore ma proprio solo per un amatore con questa invece io vi assicuro che ci si lavora non smetterò mai di elogiare abbastanza la Canon EOS 6D è una delle mie fotocamere preferite quella che utilizzo di più è quella che ho avuto più a lungo perché è quella che sto utilizzando da più tempo se lo chiedete a me è un ottimo acquisto è un ottimo investimento ovviamente dipende da che cosa volete fare se siete un fotografo di cerimonie è un'eccezionale seconda camera se siete degli amatori è un'ottima prima camera con cui potete esplorare le varie possibilità dell'universo fotografico full frame se siete dei videomaker no se siete dei fotografi di natura o di sport parimenti no per quanto riguarda me io come detto me la tengo finché dura bene amici io credo di avervi detto proprio tutto a questo punto non mi rimane d'altro da fare che ricordarvi di lasciare un like a questo video di iscrivervi a questo canale in maniera tale da rimanere aggiornati perché ci sono altre recensioni di altri prodotti che arriveranno a brevissimo inoltre ci saranno anche tutorial per imparare a utilizzare questi prodotti tutorial sull'illuminazione insomma ci sono un po' di cose che bollono in pentola vi consiglio di iscrivervi e di attivare anche la campanella così da rimanere aggiornati su tutte le prossime uscite io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento